Sandro Munari, campione italiano rally nel 77 su Lanciastratos, conosciuto con nome del Drago di Cavarzere, è stato nominato cittadino onorario della città di Volpago del Montello. Una cerimonia organizzata dagli amici della storica Lancia in accordo con il comune di Volpago del Montello e che ha visto ritrovarsi personalità quali l'ingegnere Gianni Tonti, direttore tecnico del reparto corse Lancia e sviluppatore della Lancia Fulvia Stratos 037 e Delta, e Ceo Filippi, pilota e organizzatore del mitico rally campagnolo. Convivere con Sandro Munari è sempre stata una cosa molto splendida, perché è sempre stato uno sempre molto disponibile, mai presuntuoso, motivo per cui è stata sempre una persona semplice, cioè da dove usciva, dalla famiglia di dove usciva. Io ho conosciuto appunto Munari nel 67 e poi siamo diventati anche amici e abbiamo continuato a continuare la nostra amicizia, perché con lui dopo le vittorie con la Fulvia mi ha aiutato nella messa a punto della Stratos che io ho costruito e poi tutta la serie di vittorie che abbiamo fatto insieme fino al 1977. Noi qui diciamo che abbiamo avuto la fortuna di avere tra i nostri concittadini prima Ugo Gobato, che è stato a suo tempo direttore dell'Alfa e poi Pier Ugo Gobato, che è stato direttore della Lancia. E fra l'altro siamo padre proprio della Lancia Stratos, che è il mezzo con cui Sandro Munari ha vinto poi il campionato del mondo e che oggi avremo l'onore di conferire la cittadinanza onoraria. È giusto dargli giusti riconoscimenti perché è stato veramente importante per l'automobilismo e per il rallismo. È stato lui dopo Cavallari, un altro Veneto d'eccezione, a portare il rallismo qua in Italia. Sandro ha fatto innamorare gli italiani dei rally quando ha vinto il Monte Carlo, quindi di conseguenza prima ancora di Mickey Biasion è stato lui il fondatore dei rally in Italia, con buona pace, dei Liguri che hanno avuto grandi piloti ma non hanno sfondato come ha sfondato Munari. Nasce a Possagno Canova Experience, una piattaforma multimediale e interattiva che permette ai visitatori di conoscere la vita e le opere di Antonio Canova attraverso la moderna tecnologia. Il progetto nasce dalla passione di Marco Zanesco, amministratore delegato dell'azienda Asolana Group. Grazie a Canova Experience sono stati salvati oltre 700.000 documenti storici dell'archivio canoviano, in gran parte già messi a disposizione dei visitatori. Si potrà inoltre accedere all'ala ottocentesca della gipsoteca, che a breve sarà oggetto di restauro. Un progetto al passo con i tempi, che vuole rendere la gipsoteca alla portata di tutti e avvicinare anche le giovani generazioni al mondo dell'arte. Allora, per Asolana Group Canova Experience è innanzitutto una sfida. Ogni giorno affrontiamo queste sfide per i nostri clienti, per le aziende. Parte da una piattaforma innovativa di Asolana Group, che contiene contenuti come archivio storico, come virtual tour, come navigazioni particolarmente interattive, che affascino anche l'utente finale, con applicativi su videotouch e cardboard. Anche quest'anno non poteva mancare l'ormai tradizionale concerto di Natale a San Pietro di Barbozza. Organizzato dall'Aido, sezione di Valdobiadene, per sensibilizzare il pubblico sulla donazione organi e sangue, ma anche per ritrovarsi in un momento di festa in compagnia della musica offerta dal coro Stramare, diretto da Elena Filini, il coro Voci del Sile, diretto da Raffaella Pupo, e con la partecipazione del trio sonori. È ormai una tradizione ospitare il concerto di Natale promosso dall'Aido, di qui di Valdobiadene, nella nostra chiesa parocchiale. È una chiesa bella, accogliente e anche l'acustica è molto bella. È un'esperienza molto forte che inizia, che promuove e apre il tempo dell'Avvento nella nostra comunità. Allora io ringrazio tutte le persone che vengono, tutti i risporsi che hanno collaborato e tutte le persone che collaborano con la parrocchia qua a Don Romeo, per far capire l'importanza che abbiamo tante persone in lista d'attesa. Questa sera è una serata proprio per la donazione. Questo concerto è per la donazione. Grazie. Un libro che racconta l'esperienza del terremoto vista dagli occhi dei soccorritori. Si intitola Cronaca delle Macerie. La penna è quella di Stefano Zanut, direttore e vice dirigente dei Vigili del Fuoco di Pordenone, un uomo con alle spalle 30 anni di esperienza nel campo della sicurezza e del soccorso. Presentato venerdì 8 dicembre nella sala conferenza di Villa dei Cedri a Valdobbiadene, il libro raccoglie le testimonianze dei colleghi dell'autore che hanno aiutato le popolazioni del centro Italia colpite dal sisma nel 2016. Il libro è una narra storie, narra racconti dei Vigili del Fuoco che hanno operato nella zona del centro Italia colpita dal terremoto. Sono storie del comando di Pordenone, ma in realtà sono le storie di tutti i colleghi perché hanno lavorato migliaia di colleghi, si sono alternati. E in queste storie sono associate a un nome. Abbiamo cercato di generalizzare il più possibile perché un nome e un cognome identificavano una persona e chiudevano una storia. Invece un nome basta e diventavano la storia di chiunque perché Stefano, Giovanni, Eleonora e Greta sono gli Stefano, Giovanni e Eleonora greca di tutta Italia e quindi sono storie, sono racconti però attento non sono racconti sul soccorso, sono racconti intimi. Sono le storie di come i Vigili del Fuoco lavorano e soccorrono però proposte ponendo in risalto il sentimento, le emozioni, le difficoltà, i turbamenti tutto quello che coinvolge la persona mentre mette le mani, come dice il titolo stesso, sulle macerie. Cerimonia di prevenzione in Villa dei Cederi a Valdobiadene dei vincitori del concorso pittorico Dentro il Paesaggio, Volti e Luoghi di Valdobiadene. Giunto alla sua terza edizione è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Nella serata erano presenti il sindaco di Valdobiadene Luciano Fregonese e l'assessore ai servizi sociali, cultura ed istruzione Martina Bertelle. Nella stessa serata il parco di Villa dei Cederi si è popolato grazie ai mercatini di Natale mentre all'interno della villa si dava vita in un spettacolo itinerante dal titolo La Via dell'Acqua. Nella stessa serata il paese di Valdobiadene